Il risultato politico di questa tornata amministrativa consegna un sostanziale pareggio nelle grandi città. Le città, non solo quelle sopra i 15.000 abitanti come Teramo e Silvi, dove i sindaci uscenti evitano di andare al ballottaggio, ma anche le altre grandi città che avevano una chiara connotazione politica nella loro amministrazione, perché di fatto mantengono tutte l'orientamento che avevano e peraltro in maggioranza lo erano di centrodestra. Nei piccoli comuni ci sono anche dei significativi risultati a favore dei candidati di centrodestra, di Fratelli d'Italia, della Lega, di Forza Italia. Aggiungo una considerazione che è onesta o dire da un punto di vista autocritico. A Teramo il centrodestra consegnò cinque anni fa la città a Gianguito d'Alberto e al PD, più per le proprie divisioni interne che per merito dell'avversario. Cinque anni dopo è chiaro che il sindaco si sarebbe ripresentato con la forza di aver gestito la città per cinque anni e in questo il ritardo con cui il centrodestra ha saputo superare una serie di erugini personali che evidentemente ancora condizionano e indeboliscono l'azione del centrodestra in città e lo rendono meno credibile. Il ritardo con cui si è scelto di sostenere un candidato bravo, autorevole, che ha fatto una buona campagna elettorale e che ringrazio per la serietà e anche per la misura, per lo stile con cui ha condotto questa campagna elettorale. Non lo abbiamo certo messo nelle condizioni migliori per far passare il suo messaggio alla città avendo avuto l'investitura solo una quindicina di giorni prima della presentazione delle liste. Questo tempo perso a fare troppe discussioni e a cercare di superare troppi attriti e che è tempo che vengano messi davvero alle spalle trovando la capacità di fare tutti insieme sintesi dove questo è avvenuto, dove la classe dirigente del centrodestra ha fatto e fa sintesi. Le vittorie arrivano e arrivano anche in maniera larga e significativa. Io credo che il centrodestra debba soprattutto riflettere su questo elemento. Forse giocata con più coraggio, con più decisione e con un po' di prospettiva lungimirante in più anche la partita di Teramo sarebbe potuta essere diversa.